Per quanto tempo e per sempre, a volte solo un secondo. Finalmente essa immaginò come sarebbe stata la sorellina già cresciuta e diventata donna. Alice avrebbe conservato nei suoi anni maturi il cuore affettuoso e semplice dell'infanzia. E avrebbe raccolto intorno a sé altre fanciulle. E avrebbe fatto loro risplendere gli occhi, beandole con molte strane storie. E forse ancora col suo sogno di un tempo, le sue avventure nel paese delle meraviglie. Con quanta tenerezza avrebbe ella stessa partecipato alle loro innocenti afflizioni. E con quanta gioia alle loro gioie. Riandando ai beati giorni dell'infanzia e alle felici giornate estive. Simona, Giorgio Casu, siamo abituati e abituate ad ammirarlo. Grazie ai suoi murales, Sangavino lo porta come nome importante e portante di questa cittadina. Però tu come sempre qui all'Exma sei riuscita invece a dar vita ad una personale, ad un'antologica che lo sposta in una dimensione assolutamente nuova per noi. Sì, in realtà uno degli obiettivi proprio di questo progetto e di questa mostra è dare la possibilità alle persone, al nostro pubblico, di conoscere l'opera, di conoscere la ricerca di Giorgio in tutte le sue sfaccettature. Giorgio ha intrapreso la strada dell'arte oramai da molti anni, da decenni. E il suo lavoro si esplica attraverso molteplici tecniche, molteplici elaborazioni che vanno dalla pittura alla grafica, alla grafica digitale. Anzi, possiamo dire che lui nasce propriamente come pittore da cavalletto, si sarebbe detto un tempo per poi invece estendere il suo lavoro appunto anche in una maniera molto organica, molto armonica su altre superfici fino alla dimensione monumentale del muro. Molte delle opere esposte all'Exma appunto in anteprima sul territorio regionale, sul territorio nazionale e in realtà sono state precedentemente esposte nelle gallerie statunitensi, in particolare in gallerie new yorkesi, anche nell'ambito di progetti molto autorevoli e molto prestigiosi. Ecco, tu sei riuscita a creare insieme a lui un percorso molto interessante che, da ciò che ho capito, ha un filo conduttore che in qualche modo possiamo condividere tutti quanti noi e tutte quante noi, che il viaggio è l'immaginario, la favola, ciò che a volte non abbiamo neanche il coraggio di pensare o immaginare e invece questa mostra ci fa capire che noi possiamo. Sì, perché Giorgio Casu porta avanti la sua ricerca artistica parallelamente alla sua esperienza di viaggio, che è un'esperienza di vita. lui sceglie di andare via dalla Sardegna dopo essersi laureato, dopo aver intrapreso anche una strada professionale, ma insomma decide di cambiare completamente orizzonte e di fare proprio dell'esperienza del viaggio, una sua esperienza di vita e d'arte. Quindi la sua arte non sarebbe concepibile e sarebbe del tutto incomprensibile senza questa dimensione che lo ha portato quasi come un etnografo, l'idea dell'artista etnografo è un'idea molto importante, molto presente nell'arte contemporanea, quasi come un etnografo proprio a scoprire e a ricercare differenti culture in diverse latitudini e soprattutto potesse in qualche modo sostenere questa sua ricerca artistica anche e soprattutto all'insegna della contaminazione, all'insegna del ricercare anche quelli che sono gli elementi di un dialogo comune. Non ti nascondo che ovviamente questo è uno degli aspetti che maggiormente apprezzo, che maggiormente mi colpisce, che ritengo sia molto importante da comunicare in questo momento storico. La ricerca di altre culture, l'entrare in dialogo, in relazione con altri popoli anche lontanissimi e trovare però sempre la possibilità di portare a sintesi la diversità, fare della diversità e della differenza un valore, un valore sul quale appunto costruire la propria esistenza e la propria ricerca artistica. Che anche un messaggio artistico, culturale, etico e civile è importante, che comunque io rileggo un po' nei percorsi che abbiamo fatto insieme, anche nelle scelte che tu hai fatto artisticamente qui all'Exma, perché l'arte abbia un significato concreto nella nostra vita di persone oggi, quindi questo legame è molto forte, anche la scelta di un artista comunque anagraficamente giovane, anche se di grandi esperienze, però dare questo spazio ha anche un significato per tutti gli altri, anche un incentivo, una speranza, perché comunque sappiamo che non è neanche facile trovare uno spazio espositivo che ti accolga e creare un bel percorso come quello che avete voi messo in opera qui. Non ti nascondo che ovviamente in questo preciso momento storico, oltre all'importanza intrinseca delle cose che abbiamo appena detto, è parlare di viaggio, parlare della possibilità di riappropriarsi anche della scoperta del mondo, della scoperta e della possibilità di tornare a meravigliarsi. Sì, questa mostra si intitola La ricerca e la meraviglia, cioè vuole suggerire davvero un messaggio che sia un messaggio positivo, che sia un messaggio di possibilità di tornare davvero a scoprire, a meravigliarci gli uni degli altri. E anche di utilizzare la nostra libertà. E di utilizzare la nostra libertà. Naturalmente la mostra è pensata per nuclei espositivi che raccontano ognuno per sé un mondo di Giorgio. Sì, appunto, sono i diversi nuclei, le diverse collezioni, anche come accennavo prima, esposti nelle gallerie new yorkesi diversi momenti, per cui ovviamente danno conto anche del progredire tecnologico, oltre che tematico, della sua ricerca negli ultimi anni. La mostra si apre con una installazione di oggetti di design per poi entrare nel merito propriamente dei dipinti, della pittura con la collezione del realismo magico, che in qualche modo suggerisce quella che poi è questa doppia dimensione sospesa tra realtà e surrealtà che guida tutto il lavoro di Giorgio e che lungo il percorso espositivo poi si esplicita mano a mano fino alla sala che abbiamo chiamato la sala con le figure femminili che interpretano la figura di Alice, quindi la sala delle meraviglie di Alice. La sala delle meraviglie. Sì, e devo dire che insomma abbiamo scelto che un po' questa sala fosse con queste figure femminili che evocano la letteratura, che evocano la mitologia antica, che quindi sono davvero un po' una commistione di culture, abbiamo voluto che fosse un po' anche il punto d'arrivo del percorso proprio perché sintetizzano in maniera molto molto efficace una concezione pittorica e artistica davvero densa di suggestioni, di spunti e mi permetto di dire anche insomma un pensiero artistico molto colto in cui comunque davvero c'è tutta una sovrapposizione di concetti e di pensieri che vanno metabolizzati, che vanno acquisiti, per cui dietro a questa apparente quasi semplicità dove comunque leggiamo con immediatezza il tripudio di forme, il tripudio di colori e siamo immediatamente colpiti dalla ricchezza delle composizioni e poi dobbiamo, naturalmente siamo chiamati a fare lo sforzo di approfondire la presenza in ogni dipinto di elementi profondamente simbolici, disegni che richiamano concetti afferenti appunto a culture diverse, ad ambiti del sapere diversi, per cui è un modo per ripercorrere quel percorso di scoperta, di ricerca e di meraviglia che l'artista ha fatto e che noi proviamo a rifare insieme a lui. Andiamo a conoscerlo? Andiamo a conoscerlo anche perché di sicuro sta lavorando quindi adesso lo andiamo a scovare nel suo habitat. Grazie Simone. Grazie a te come sempre. Ma io non voglio andare in mezzo ai matti, si lamentò Alice. Oh, non hai altra scelta, disse il gatto. Qui siamo tutti matti. Io sono matto, tu sei matta. Come lo sai che sono matta, disse Alice. Devi esserlo, disse il gatto, altrimenti non saresti venuta qua. Ma allora, disse Alice, se il mondo non ha assolutamente alcun senso, chi ci impedisce di inventarne uno? Il segreto, cara Alice, è circondarsi di persone che ti facciano sorridere il cuore. È allora, solo allora, che troverai il paese delle meraviglie. Giorgio, l'albero della vita al quale stai lavorando è un'installazione che ammireremo dove? Questa l'abbiamo preparata per Arzachena, per la scalinata di Santa Lucia. Sono stato fortunatissimo perché l'ex ma mi ha donato questo studio atelier che siamo a Fantasilandia, per me è uno degli studi più belli di sempre. Ecco, questo tema che ti accompagna oramai da tempo, è un po' croce e delizia quello dell'albero della vita? Me lo stanno chiedendo in tanti e qualunque cosa io propongo, anche se sono delle proposte molto varie opinte o cerco di inserire altri design, ultimamente mi chiedono solo l'albero della vita. Quindi per me è un po' quella canzone che chiedono sempre al cantante, anche quando pensa. Alla fine del concerto c'è sempre il classico. Anche all'inizio, sì, sì, sì. Quando è nata l'idea dell'albero della vita e che cosa rappresenta per te? Soprattutto nella ripetizione, perché questo per chi è fuori dal gesto artistico a volte non si capisce. Cioè nella ripetizione esiste sempre una nuova forza, energia creativa e quindi una motivazione sempre nuova o no? Assolutamente sì, perché non sono un designer di pattern, per me sono un creativo e per i creativi c'è sempre la macchinetta che continua a girare. Quindi probabilmente questa sarà la millesima versione di un albero della vita che sembra sempre uguale a se stesso, ma ne esistono centinaia di versioni diverse. Però essendo un'installazione estiva non vorrei che la gente sentisse la mancanza del giallo, del sole, del grano. Allora glielo facciamo trovare anche se in piccole dosi. Mi hai fatto venire in mente che un altro albero della vita che ho seguito tramite i social è quello che hai realizzato a Sangavino per onorare Faustino Onnis che è un poeta che ritorna anche grazie a te a Sangavino e quindi hai unito la tua arte con la poesia e con un poeta molto interessante che stiamo valorizzando anche grazie all'operato della figlia in questo periodo veramente con forza. Avevamo optato per diverse opzioni che erano più fotografiche, più un racconto di Faustino giovane a Sangavino e invece poi alla fine con Luciano appunto con la figlia abbiamo deciso di cambiare il gioco e scegliere di rappresentare quello che lui ha rappresentato, quello che voleva rappresentare la sua vita con un albero della vita e poi tutt'altro abbiamo messo una poesia bellissima che secondo me era dedicata a sua figlia e siccome sono diventato padre da quattro mesi mi sembrava l'occasione giusta per dedicarla io alla vita. Chi visita la mostra capisce che sta facendo un viaggio e la Sardegna si incontra in questo? Che stimoli ti ha dato nel tempo? Come è considerata questa terra? È una terra che hai voluto abbandonare alla ricerca di altro? La trovavi stretta e scomoda? Sì, è iniziata per me, è iniziata come la terra che volevo lasciare perché mi stava strettissima mi dava fastidio che tutto in Sardegna sia relazionato alla Sardegna stessa un po' autoreferenziale la Sardegna e i sardi sono altamente autoreferenziali qualunque cosa si parla deve partire dal filtro sardo e quindi ogni cosa è relazionata e esiste in relazione alla Sardegna Quindi tu sei scappato da tutto ciò? Io sono scappato, volevo sentirmi non sardo Mi ricordo questa sensazione, volevo sentirmi cittadino del mondo, libero di girare e non sentirmi un sardo che è partito fuori, un sardo immigrato Continuavo a tornare ogni estate in Sardegna e ogni anno sentivo che non mi bastava volevo sempre di più, anche perché per me è sempre stata una pausa rigenerativa perché nei viaggi davo tutta l'energia che avevo per dipingere, per creare, per fare quello che volevo fare però poi il ritorno in Sardegna per me era estremamente rigenerativo dai carciofi di Zio Mondino a il mare di Scivu e di Pistis per me è sempre stata una pausa, sentivo proprio il corpo e l'anima rigenerarsi La verità è che per molta fortuna non trovavo un altro posto che mi facesse stare bene come la Sardegna quindi per quanto girassi negli Stati Uniti ti assicuro che ho visto dei posti incredibili e bellissimi negli Stati Uniti, in Centro America, in Asia, in Sud Asia li ho visti e li ho cercati perché vado a cercare i posti più belli al mondo se no la mia ricerca non avrebbe senso a cercare i posti più belli al mondo Sapevo che prima o poi avrei voluto un bambino, una bambina, una famiglia non peraltro perché sono sempre stato molto libero e indipendente però sotto di me, dentro di me sapevo che la bellezza di avere una famiglia, di un bambino e una bambina ha sempre rappresentato per tutti quanti un passaggio importante e non volevo, io sono sicuro che è sempre meglio pentirsi di quello che si è fatto che di quello che non si è fatto perché quando ti penti qualcosa che non è fatto ti rimane la mano in bocca che non ha neanche modo di spiegarlo, di rappresentarlo io non mi voglio, non mi volevo pentire di essermi perso uno dei piaceri, una delle condizioni che gli amici che conosco le persone che ho sentito parlare in giro per il mondo mi raccontavano come una delle cose più belle che hanno mai provato nella loro vita mi raccontavano come una delle cose più belle che hanno mai provato in giro per il mondo cosa è che ci può aiutare o che cosa aiuta a te a mantenere costantemente a parte magari qualche momento che si può vivere anche un po' di buio ma a mantenere costantemente questa meraviglia per il mondo per le cose che poi si esprime per te nelle tue opere io cerco il bello, cerco ciò che per me è bello cerco anche la sorpresa probabilmente mi piace sperimentare con tutto quello che vedo quindi se a volte uso una terra, a volte del legno il fatto di poter proiettare l'albero della vita in una scalinata per me è un'occasione di sperimentare ancora perché non vedo il limite a dove far apparire certi elementi e quindi ho la fortuna di sperimentare questo pattern e lo faccio esistere a parte per il messaggio che ha in sé che è un messaggio di famiglia, di crescita a parte per il messaggio di famiglia la mostra io l'ho cercata fortemente in inglese le chiamo manifesting cioè è una cosa che io ho voluto che volevo fare da quando sono tornato in Sardegna anche prima prima o poi devo organizzare una bella mossa come quella che organizzo fuori a New York piuttosto che a Los Angeles a Laguna B c'è alcune che ho fatto e dicevo quando arrivo in Sardegna voglio farle una bella quindi l'ho già preparata prima cioè le cose succedono quando ti prepari quando sei pronto ad accogliere il momento in cui si presenta la possibilità di fare quindi ho fatto arrivare tutte le opere che avevo negli Stati Uniti in Sardegna e lì devo dire che Simone è stato bravissimo perché gli ho fatto vedere un range di opere molto vasto ed è stata molto brava a chiudere il campo e poi piano piano mentre la portavamo avanti a creare un percorso estremamente coerente che non era facile eh no infatti quando sarò duchessa non vorrò avere neppure un granello di pepe in cucina la minestra è saporosa anche senza pepe e il pepe certo che irrita tanta gente l'aceto la inacidisce la camomilla la fa amara e i confetti e i pasticcini addolciscono il carattere dei bambini se tutti lo sapessero non lesinerebbero tanto in fatto di dolci non l'aceto Grazie a tutti.